Sono Doris e oggi vi farò vedere come passare da questo a questo grazie all'Afro Love Kit di I Love Rich. Dopo aver bagnato i capelli applico il Magnifico Wash che lascia i ricci morbidi e idratati. Ne metto un po' sulla mano, scaldo il prodotto e lo vado a massaggiare su tutta la cute, delicatamente non come faccio io. Risciacquo e passo allo step numero 2, la Glorification Mask che nutre e ripara i nostri ricci. La applico su tutte le lunghezze e mi raccomando non dimenticate anche i baby hair. Lascio in posa 10 minuti e poi vado a districare tutti i capelli. Vedete già che definizione fantastica hanno. Risciacquo per passare al terzo e ultimo step la Bulking Cream che definisce e mantiene nutriti i ricci. Eseguo un leggero scrunch su tutta la testa, anche a testa in giù mi raccomando, e tampono poi con una t-shirt in cotone. Infine, con il diffusore asciugo i capelli e il risultato è questo qui, volume e definizione senza uguali. Ringrazio i Love Riccio per la fantastica opportunità e ringrazio voi per aver visto il video.